Bella a tutti da Porkmods, eccoci qua in questa nuova gara Questa gara è stata creata da Xact Tanto non facevo un bel level asianino da Big Pork, perdonatemi Dopo vado a registrare pure una bella mega rampita Allora si parte, nella descrizione ho letto Che era Italy SRX e XA21 questo level asian Vediamo un po' com'è Cosa abbiamo lì, aspettate intanto facciamo Questa parte qui, cambio Regà ma io non l'ho mai Abbiamo mai fatto il level Quelli di SRX, non mi ricordo Qui così? Sì sì, alla perfezione Allora qui abbiamo due cambi Ok Ma io non dico nada regà Ci siamo, ci siamo Allora Cosa dobbiamo fare qui? Regà non vedo niente Che bisogna fare? Ah le gomme, le gomme, le gomme Ci dobbiamo rigirare Ehm Non credo Ah infatti Eh regà trolla Questa Italy Ok Dai dai belli concentrati adesso Super concentrati Oh le ci siamo, ci siamo Perché chiacchierare regà ogni volta Non fa bene nei level asianini Oh ma è strana nei cambi questa Italy regà Veramente strana Allora stavolta ci rigiriamo subito Aspettate che devo capire dove Però ok qui Sì le gomme stanno lì Facciamo così Perfetto Ce la faccio? Sì sì Alla perfezione Scendiamo giù Credo che sia giù eh Allora dal check non si capisce Ok Ehm Ci siamo, ci siamo Non vi preoccupate Allora Qui abbiamo un cambio Perché l'ho fatto così? Ah beh tanto l'Italy ce la fa Mi devo appoggiare? Ok Ok E ce la facciamo? Non lo so Calcolate che è pure la prima chiarità del giorno Allora Perché ha fatto questa cosa al creatore regà? Me lo spiegate cortesemente Non poteva mettere il check? No eh Ma guardate i troll Dico assolutamente nada Ok dai Non fa niente Anzi Sono offeso Super offeso regà Queste cose non devono succedere Ok Oh l'ultimo cambio Sempre in una maniera strana Lo facciamo Allora Aspettate Qui Eh Oddio Eh no Un altro giro Un altro giro regà Allora Accendiamo i vari A parte che manco Se vedono Ok Sariamo su E qua ci sono le gomme La strada era giusta comunque Però Sono rimasto trollato Ok Frena Ok Ok Ci siamo Questo cambio viene strano Allora Questa volta Belli concentrati Ok No è proprio l'Italy Che fa questi cambi Cioè non possiamo fare i cambi Come l'XA21 Allora questa volta O fregniamo in aria O blocchiamo Il flip così Dove atterriamo Questa volta non dovrebbe succedere niente E infatti Dovamo bloccare il flip Olè Qui cosa abbiamo di bello Eh Perché si è staccata regà Ah C'è il check là Respondiamo Respondiamo Allora andiamo a prendere Questo check Ok XA21 Finalmente Questa è fantastica Questa macchina Proprio la macchina Per il level asian Fatta su misura Regà Ok Allora E qui Ah Forse devo fare così Forse devo fare così No regà Ste parti Me trollano Eh sapete che forse Dobbiamo fare tipo Tipo un 360 Nel tubo regà Vediamo un po' se è così Quanti check sono? 8 su 19 Per adesso sembra un level asian Una Easy ma divertente Non abbiamo fatto niente Di hard Però meglio così Ogni tanto bisogna Rilassarsi Vedi che Non è che Uh Non è che tutti i level asian Sono hard Che ho Ci stanno pure quelli Fatti Per rilassarsi Credo che devo cambiare direzione così Ok No Ci provo Zitti 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 Ah c'è una rampetta qui Oh mio dio Ok Trick stiloso qui Che abbiamo Mamma mia Mamma mia Ci siamo Allora Qui abbiamo un cambio Ok Saliamo su Sali 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 E di qua Spero Sì E ci siamo Che meraviglia Oh regà Bisogna guardare la minimappa Con questo creatore Perché Metti check Dietro Allora Stavolta non mi frega Ok Allora Teoricamente avrà calcolato Che Ok Ce l'abbiamo fatta Senza Senza aiuto del check Che Così Ok Non lo so nemmeno io Quello che è successo Però Va bene così Non vi preoccupate Ah dobbiamo Flippare qua Come sa Oh 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 Pericoloso Ok X-21 Saliamo su Qui cosa abbiamo Eh Sì Ci siamo Oh Su Su vero Sì Sali 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 Eh Olè Quanti check 15 E c'è il check Respawniamo Di nuovo Ok Bello Bello Questo level Alzio Rilassante Allora Qui immagino Che è un flip Non così Oh Zitti Ce la fa Ce la fa Ok Ah Dove ho girato in larga Aspettate Non credo Vediamo E chi è Questo X-21 Regà Allora Lì c'è un wallride Ok Ci siamo Ci siamo Saliamo su Cosa dobbiamo fare Ma Non c'era il cartellino Non ha messo il cartellino Raga Però aspettate Ah Ok Ci dobbiamo rigirare Dobbiamo scendere giù Rimanere nel primo livello Dei chiodi E poi là c'è un cambio Ok Ok Almeno abbiamo visto subito Non rimanere troppo Oh Il flip l'abbiamo fatto Questa volta Però qua Dobbiamo rallentare Un attimo Ok Eh sì Dopo cercando Summer Special Allarga che io Non lo supporto Quel cambio Che a me Si bagga Sempre la macchina Ok Ok Salix A21 Qua ci dobbiamo Rigirare Ok Stavo ad aver sbagliato Invece Ci siamo Allora Credo Credo Qual primo livello Aspettate Tipo qui Vediamo Sì Ok Cambio basso Sì E dopo di che Ah Ci dobbiamo rigirare Faccio un altro giro Per sicurezza Raga Ok Il piano era questo Sì Eh vedete Meno male che questo Il piano Se no era molto hard Deveva stare Nei piedi stretti Che l'ho messi Nel diamond Un cambio Un cambio Ok Ok È finito Il level asianino Raga Eh si Che meraviglia Vabbè Andiamo con quello solo Aspettare un attimo Level asian Veramente Rilassante Che dite Adesso andiamo su piccica E ci spariamo Un parkurito Modato Non so con che Ok raga Dopo un bel level asian Ci giochiamo Un bel parkurito Guardate con che mucca La mucca è di spiderman Qua abbiamo Un suino Che sta pescando È un suino Uno spazzino Aspettate Buttiamo giù il suino Raga Che dite Abbiamo Nuccati Ah no Raga Non messi Meglio non toccarli Che tanto No 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 Indietro Come faccio ad andare indietro Con la mucca E c'era un metodo Ok No no Retromarcia Retromarcia Ok Calcolate che c'hanno pure La retromarcia Queste mucche Però adesso ci dobbiamo Rigirare No Retromarcia Retromarcia Dai raga È impossibile Ok Possiamo andare Dai mucchetta Perché sei così Difficile da guidare Ok Perché dove andare indietro Non lo so Piano 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 Olle Possiamo andare più veloci Raga Allora Ci giochiamo questo Mini parkour Raga Devo aggiungere un po' più di pezzi Così almeno viene più carino Ma tanto ogni volta giocherò Dei mini parkour Perché è impossibile Fare un parkour lungo Con la mucca Raga Volevo portare pure altri animali Devo fare pure Il suino di Spider-Man Raga Ok Ah c'è pure il campanellino Cos'è quella gente lì Piano 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 Raga E adesso Aspettate eh E non si sposta E ci proviamo lo stesso Zitti Zitti Mamma mia Non si spostavano comunque Allora Dai più veloce Più veloce Qui vai bene Mucchetta Ok Che spettacolo Il parkourito Con le macchine No No sui Avevo visto che era inciampata Questa mucchetta Ok ci rischiamo Ce la fai Aspettate Oh yeah Ci speriamo pure una bella miniatura Raga E io direi che possiamo Concludere il video Fatemi sapere se vi è piaciuto Il level asian E la mucca di Spider-Man Andiamo Andiamo Corri mucchetta Olè Se vi è piaciuto questo video Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale E noi ci becchiamo Al prossimo video Bella